della retroguardia di Ivan Juric, Gigi scambiato il pallone con Lukic, adesso lo appoggia sul portiere Milinkovic Savic, Udinese che rimane piuttosto basso, Milinkovic Savic può uscire dalla sua area di rigore per andare a cercare il lancio lungo, indirizzato verso Belotti, stacca Belotti che appoggia il pallone per la conclusione, vantaggio del Torino, ha segnato Josi Precalo!